fuori programma partiti i cavalli dell'Evanuolo e Filiberto 2012 dall'esterno Smoking Joe molto deciso nel volere andare in avanti operazione che non gli viene contesa da Grunlov, Grecale vuole e va all'interno Granarmoli, poi Duca di Mantua e Warder adesso però Grecale va su Smoking Joe i due ingaggiano una certa frazione in questo momento con Smoking Joe che prova a tenere botta su Grecale vuole e va che si mette terzo in giubba verde seguito in blu e rosso da Grunlov all'interno in bianco e viola Granarmoli poi ancora Warder in giubba scura che lascia largo Duca di Mantua con la giubba fucsia verde Grecale che rileva il comando Smoking Joe con quest'ultimo che comunque rimane lì all'interno del battistrada dei due sempre seguiti da Voleva e Grunlov all'interno dei quali è sempre sistemato Genarmoli poi ancora Duca di Mantua e Warder un gruppo compatto con Grecale che mantiene l'iniziativa su Smoking Joe che gli l'ha concessa i due sempre seguiti da Voleva che rimane a largo adesso su Genarmoli poi per corsie molto larghe Grunlov seguito da Duca di Mantua mentre Warder sceglie corsie più corte per curvare retta d'arrivo già passato paletto degli 800 con Smoking Joe che si prepara all'attacco di Grecale all'esterno Voleva su Genarmoli richiesto ma avanzante Warder per via interna e poi ancora Duca di Mantua che prova a intervenire anche se staccato di un paio di lunghezza rispetto ai primi cinque che sono tutti in linea mentre Grunlov è attardatissimo con Warder che dall'interno si concretizza l'attacco di Smoking Joe con i due che prendono margine su Voleva che adesso prova a intervenire Warder che allunga su Smoking Joe i due si staccano da Voleva che prova con grosso coraggio all'esterno della partita ma l'ultimo farlongo sono in due con Warder all'interno e Smoking Joe a largo Warder con una lunghezza abbondante su Smoking Joe che ritorna Warder che non molla la presa Smoking Joe che insiste Warder che non si passa Warder che vince a sorpresa Filiberto su Smoking Joe Voleva Genarmoli Duca di Mantua Warder l'elemento che non ti aspetti Gregorio Arena che colpisce per Raffaele Biondi al training il signor Affè ai colori Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti